stasera preparo il petto di pollo agli agrumi con un pizzico di un ingrediente particolare se seguite la ricetta se seguirete la ricetta vi renderete conto che il tocco particolare in questa ricetta stasera ho intenzione di preparare il petto di pollo agli agrumi adesso vi faccio vedere come lo realizzo come lo cucino innanzitutto in una padella ampia vado a tritare una cipolla faccio rosolare per bene la cipolla che ho tagliato a fettine nel frattempo vi vado a infarinare il petto di pollo ho messo a rosolare nella padella il petto di pollo infarinato adesso lo giro vedete si sta ben cuocendo adesso vado a sfumare il petto di pollo la fiamma alta e un bicchierino di vino bianco e lascio evaporare completamente la parte alcolica del vino adesso il mio caro vecchio spremi agrumi vado a sfumare un'arancia e un limone ora vado a bagnare il petto di pollo un attimo con il succo dell'arancia e del limone vedete un'arancia e un limone adesso lascio cuocere per cinque minuti ora vado ad aggiungere al diciamo al petto di pollo mezzo cucchiaino di miele data sopra lo vado a mettere soprattutto dove c'è il succo vedete ecco qua per smorzare questo lo metto per smorzare la parte acida del limone degli agrumi adesso vado a girare ora metto un po di sale su ogni fettina lascio restringere il sughetto per 2-3 minuti e il piatto è pronto buon appetito